Grazie di essere venuto subito, Mike. Vorrei sembrarle isterico, ma la situazione è molto grave. Hai fatto bene ad avvertirmi. Conosci Barry Osterer? No, ma certamente so chi è. Molto piacere. Si ricorda Enrique, il segretario del ministro degli interni. Le manda i suoi saluti. Voleva accoglierla con tutti gli onori. Capisce che non voglio pubblicità in questo momento. Lo capisce perfettamente. Sta conducendo una sua indagine, ma sa che non vogliamo spaventare ancora di più la gente del villaggio. Va molto male. Non bene. Ne parliamo durante il viaggio. Grazie a tutti. Ma che significa? Grazie a tutti. 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 Dottor Osterer, dia un po' un'occhiata. Funziona! Nasatura a zero I corpo lo hanno trovato laggiù, vicino alla piramide Scendiamo Adesso? Sì, adesso, Domingo Va bene Sì, adesso... Sì, adesso...